Ciao amici d'Italia Top Games, buongiorno, l'appuntamento con la live di oggi si avvicina, mi raccomando non mancate, ore 21, ore 21 live sul canale YouTube d'Italia Top Games, cercherò di rispondere a tutte le vostre domande, cercherò di rispondere alle vostre richieste di una mia ipugnone sulle ultime novità di Football 2022, non mancate, approfittate per iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così vi raggiunge la notifica della live, ma voi notifica o non notifica, alle 21 siate sul canale YouTube d'Italia Top Games per seguire questa live, minimo, minimo, durerà un'ora, massimo tre ore, no scherzo, non lo so, comunque cercherò di andare avanti fin quando mi è possibile per cercare di rispondere a tutte le vostre domande. Adesso faccio un piccolo salto indietro al video purtroppo negativo delle notizie sull'offline, comunque mi hanno risposto spagnoli molto gentili, Francesco, Bugliese, tante persone mi hanno supportato, io ringrazio e questo davvero significa fare community e ringrazio davvero tutti per l'aiuto, sembra che comunque almeno, cioè veramente non cambia molto, comunque ci saranno più stati nella modalità offline, sul tempo delle partite invece non si sa, sapete c'era quel tweet di Robby Ron che si capiva bene, l'interpretazione è che le squadre saranno nuove ma ci saranno più stati, so che cambia davvero poco ma per completezza di informazioni ci tenevo a darvi questo chiarimento che avevo anche inserito come primo commento nel precedente video ma so che non tutti lo leggono e quindi vi ho voluto dare questa notizia. Allora la novità di oggi, un grazie ad Alessandro Villanova per la segnalazione, a Michele che mentre stavo premendo il tasto per far partire il REC anche lui me l'ha segnalato, grazie, Michele è stato colui che mi ha segnalato in primis l'annuncio dell'aggiornamento il 14 aprile mercoledì, quindi ringraziamo tutti Michele che ha fatto una delle segnalazioni più importanti dell'anno. Allora questa immagine è stata pubblicata da John Royas che è un altro influencer molto molto attendibile, però non abbiamo ancora l'ufficialità anche se più o meno mi sembra che tutto corrisponda a quanto si vede già anche nel sito ufficiale di Football 2022, qui c'è Strictly Confidential, è uscita questa immagine, non so da chi io non ho partecipato all'ultimo evento quindi sicuramente non sono stato io. Allora come potete vedere ci saranno questi tipi di giocatori in Dream Team. Allora a parte il design frontside e backside vabbè ci interessa relativamente poco la figura avanti e indietro della copertina. Ci interessa molto invece sapere che ci saranno le leggende, i legendary e qui c'è Ronaldinho. Ci saranno i giocatori trending e qui si parla di player of the week che quindi dovrebbero essere simili ai giocatori in evidenza, però occhio ci sono i trending e ci sono i featured. Questa cosa è molto interessante, sarà da capire come si differenzieranno particolarmente, magari i trending sono quelli appunto della settimana, leggo lì, player of the week 2021-2022, magari ecco qui il giocatore è bloccato però sto vedendo, vedete il giocatore è bloccato, quindi chissà se si potranno solo utilizzare in una settimana o così, è un po' particolare queste cose. I featured invece livello 1.36 come al solito. Poi ci sono i giocatori standard, ecco Rashford, livello 1.29, valutazione C e comunque 1.29 e poi fanno vedere il livello massimo del giocatore. Rashford 93, da 85 a 93, livelli 29 su 29 e ancora condizione C, questa cosa è un po' particolare della condizione, non capisco se saranno di base oppure varieranno. vabbè diciamo che in questo caso varieranno e come al solito ci auguriamo, perché se no sarebbe davvero da prendere solo featured e solo trending, altrimenti se no avere tutti i giocatori C. Vabbè comunque queste sono tutte ipotesi che dobbiamo poi scoprire, lo scopriremo massimo il 14 aprile, questa è la versione standard di Rashford al massimo del livello, quindi passa da 85 a 93, sempre se questa card sia reale, ma mi sembra proprio di sì. Poi c'è quest'ultimo livello, si parla di foil, che significa foil in inglese, ma forse non lo so, mi sembra lo stesso identico design del... ah no c'è questa specie di etichettatura rispetto... vedete lo sfondo? chi lo sa? Chi lo sa cosa significa? Non lo so, perché per il resto è tutto assolutamente identico alla versione standard level max. Non so, non so, magari se qualcuno di voi ha un'interpretazione per questo foil. Comunque la cosa che sappiamo di certo è che ci saranno i giocatori standard come al solito, ci saranno i giocatori featured e qui dovremo vedere se saranno come al solito. Ci saranno i giocatori trending, che a me, ipotesi mia, sembrano poter essere utilizzati soltanto a breve, magari sarà una specie di prestito, però con giocatori... prestito io non so voi, ma li usavo pochissimi in MyClub, magari invece con il fatto che sono a livello A e tutto potrebbe essere più interessante. Una nuova versione del prestito, un giocatore comunque a tempo limitato, che però in quella settimana sarà particolarmente al top. Mi viene in mente questo, perché ripeto, senza livelli mi viene in mente questo. E poi infine le leggende, che più o meno mi sembra la valutazione B, scusate, non la valutazione, la condizione B e tutto quanto e la possibilità di crescita mi sembra davvero molto molto simile al MyClub. Staremo a vedere, staremo a vedere, non appena arriveranno altre informazioni ufficiali da Konami. Oggi l'informazione ufficiale, quella delle nove squadre, sicuramente non è piaciuta a me, non è piaciuta a molti di voi. Io ragazzi, lo ribadisco, a me dispiace per chi gioca offline, io purtroppo non posso farci nulla. Io lo sapete, da anni sostanzialmente gioco solo a MyClub, mi piace quel tipo di esperienza, che secondo me è anche equilibrata a livello di richiesta di tempo. Staremo a vedere come sarà questo Dream Team, che il nome non mi piace, ma dopo andremo un po' a scoprire come sarà davvero a brevissimo giovedì prossimo. Ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento di nuovo a stasera, ore 21, qui sul canale YouTube di Italiat of Games, live solo ed esclusivamente per l'aggiornamento 1.0 di Football 2022. Grazie per l'attenzione e al prossimo video. Ciao!